Ancora buongiorno agli amici di Anto, oggi giovedì 29 dicembre, il giorno dei sindaci. Chi non è potuto venire per Natale viene per l'ultimo dell'anno. È venuto il sindaco di San Benedetto, adesso c'è il sindaco di Grotta a Mare. Gli altri sindaci dei comuni PC sono venuti prima di Natale, quindi cerchiamo di essere sul pezzo per quello che è il discorso delle amministrazioni. Buongiorno Enrico, grazie per aver aderito all'invito. Giustamente Pina mi hai trovato, non ti preoccupare Enrico, ti do garanzie che viene giovedì 29. Io ti ho aspettato. Non potevo mancare, mi auguro per tutto. Tu sai il buon rapporto che abbiamo da tanti anni con la televisione, adesso con la radio e con gli anni. Allora come lo possiamo chiudere questo 2016? Anche perché Grotta a Mare tu sei un po' quello che ha preso il bastone di Merli. Merli l'ha preso da Rossi, questo comune che va sempre alla grande. Quest'estate ho dovuto ospite alla conchiglia insieme all'amico Iacchietti per presentare il capere amore mio. Diciamo che cercate, nonostante i problemi che tutti i comuni hanno, di portare avanti quelle che sono le peculiarità che caratteristiche di Grotta a Mare. Sì, hai detto benissimo Carlo, c'è poco da aggiungere. Sono anni difficilissimi, negli ultimi sei anni tutti gli enti pubblici hanno dovuto far fronte a difficoltà sia di carattere economico, perché sono ridotti i trasferimenti statali, sia proprio di carattere organizzativo, perché la funzione pubblica e i dipendenti pubblici adesso si stanno riducendo, non si può fare il cosiddetto turnover dei dipendenti, quindi si è complicata anche complessivamente la burocrazia, perché non sono stati anni di semplificazione amministrativa, tutt'altro la burocrazia è aumentata negli atti da fare, quindi tre criticità che andavano affrontate senza scoraggiarsi. Quindi abbiamo cercato di mantenere costante il livello di qualità sia nella manutenzione sia nella proposta della città, con meno risorse, facendo come? Facendo ottimizzazione dei risparmi, ottimizzazione delle risorse, ma anche utilizzando un criterio che secondo me è felice, cioè quello di programmare a monte ciò che si può fare e ciò che non si può fare, affinché ai cittadini si possa dire con onestà, questo riusciremo a raggiungerlo, quest'altro no. E devo dire che il 2006 è stato un anno felice da questo punto di vista, sfortunato per tanti altri punti di vista, lo sappiamo, noi ricordiamo insomma, un anno bisestile proprio, come si sa. Però dal punto di vista degli investimenti su Grotta Mare abbiamo avuto un grande impulso, perché grazie all'allentamento del patto di stabilità abbiamo potuto mettere in gioco alcune risorse che avevamo da parte. Tant'è che in un anno dove gli altri comuni più o meno hanno avuto difficoltà e sono stati fermi, noi abbiamo inaugurato tre opere pubbliche molto importanti, la piazza Antalighieri, il lungomare sud, la nuova pista ciclabile lungomare sud, e il largo il tarpato su Al Paese Alto. Più tante altre opere di media entità, ma comunque molto significative, che sono state tangibili nel resto della città. C'è rimasta una grande ulcera in quest'anno che è la notizia sfortunata che ci ha dato l'orgono di indirizzo della Fondazione Carisap per Anima, questo progetto che dopo nove anni si è chiuso senza spiegazioni, è una delle amarezze che ci resta in bocca alla fine dell'anno. Quello era un po' il progetto che forse valorizzava anche questo territorio, perché è un'area che andava a svilupparsi in una maniera non eccellente, di più, appunto strategico, che caratterizzava un po' all'uscita dell'autostrada, diciamo che potrebbe essere quel valore aggiunto che valorizzava non solo Grotta Mare, ma penso tutta l'area Riberasca. L'obiettivo era quello, anche perché un investimento di 25 milioni, un'opera di Bernard Schumi, che ha pianificato opere ad Atene, Parigi, New York, cioè nelle grandi capitali del mondo, avercela qui nel Piceno sarebbe stato un grande segno di riconoscimento. Sono certo che più passeranno gli anni, più ci si rivolgerà indietro e si vedrà questa come una scelta sbagliata dell'ordine di diritto della fondazione e resterà come un'occasione mancata perché sono treni che non passano frequentemente, forse non passano più. Un po' come fu per il movimento al pescatore a San Betto del Tronto di Pericle Fazzini. Se adesso ci fosse stata un'opera del genere saremmo stati riconoscibili sulle antologie di storia dell'arte a livello europeo. Come la Sala Nervi del Vaticano e tante altre iniziative. Esatto. Sono cose che insomma non andrebbero purtroppo lasciate. La fondazione ha fatto questa scelta e noi non potevamo fare nient'altro perché di altronde era un'opera privata. Esatto, esatto. Oggi tantissimi amministratori cercano di unire l'utile al direttivo, cioè il privato insieme al pubblico perché da soli non si va da nessuna parte e spesso quando al privato gli dai qualcosa il privato gli dà una garanzia. È previsto anche per norma e quindi è proprio un'urbanistica contrattuata che per Giunta alla fine è l'unico modo per poter uscire da delle difficoltà di bilancio. Il problema è che anche l'edilizia che tanto ha giovato, quell'edilizia poi responsabile, seria, non speculativa, che tanto ha giovato negli anni anche a Grotta Mare. Pensiamo per esempio alla piscina comunale che è stata ottenuta con un piano di urbanizzazione e a costo zero per l'amministrazione. Adesso ha questo settore comunque delle difficoltà perché naturalmente non sta ripartendo come dovrebbe ripartire. Insomma, anche in questo caso lavoriamo con quello che abbiamo. Enrico, io vorrei prendere, prima di lasciarti e prima di farci gli auguri a vicenda, una battuta che fece quest'estate, mi ricordo l'amico Enzo Iacchetti, quando disse, senti Carlo, posso farti la convidenza? Io mi sono fidato gli amici, non so che posso quando gli inviteremo. Cioè questa cosa mi ha fatto talmente sorridere perché giustamente Iacchetti, avendo sempre questa sua visibilità, non solo sulla Mediaset, ma su anche altre cose, la Rai spesso è chiamata, che ormai è un personaggio pubblico, penso che non ti faccia mancare personaggi anche per il 2017. Adesso l'ho buttata là, però fu una battuta molto simpatica. Sì, diciamo che Enzo ha dato già tantissimo alla città, tutto quello che ha dato è stato un dono grandissimo, perché trovare un personaggio di questo calibro, con così tanta umanità, che a costo zero ha diretto quattro edizioni di Cabaret Amore Mio, una in occasione commemorativa, lo ricorderete, nella memoria di Pepi Morgio, che morì l'anno prima. Grande Pepi, sì. Esatto, e poi tre consecutive come direttore artistico, ripeto, senza chiedere nulla, e sorbarcandosi comunque delle grandi responsabilità, perché vuoi non vuoi ha messo il volto come direttore artistico su un'iniziativa. Questo è già per noi un dono grande. Non so nel 2017 quello che faremo, anche perché Enzo è pieno di impegni, però sicuramente non mancherà il suo supporto, perché ormai è un amico non solo di Grottamare, ma del Piceno, trascorre tanto tempo, è una persona che si è dedicata tanto anche a tutti coloro che gli chiedono un suo supporto per il sostegno a iniziative benefiche, non si nega mai, si incontra in giro, partecipa a tante iniziative del territorio, gastronomiche, culturali, quindi ormai penso che abbia letto questo spazio come un luogo d'adozione e quindi con tutto l'amore che poi uno che è un Piceno d'adozione... Esatto, anche perché ha preso casa a Ripa e quindi non l'ha fatto casualmente, ma tanti personaggi che vengono qui, parlo ad esempio di calciatori, allenatori che mettono le radici, qui si sta bene, si vive bene, si mangia anche bene. L'ultima battuta su Capariamo Remio che penso che sia una delle chicche, perché tu sai Zeli che e tante altre trasmissioni diciamo così cabarettisti hanno preso proprio lo spunto da Capariamo Remio che ha superato i 30 anni, quindi penso che per Grottamare la cittadina, che ci sono tante cittadine italiane che sono caratterizzate da eventi sportivi, culturali, quindi penso che questo per voi è sempre un qualcosa che vi identifica a livello non solo nazionale. È uno smeraldo, nel senso che dall'84 ad oggi sono cambiate tantissime cose da quando Capariamo Remio nacque, è cambiato anche il mondo dello spettacolo televisivo, lo stesso cabaret che è un settore dell'intrattenimento ha avuto alti e bassi in questi anni, Capariamo Remio è rimasto e ha anche superato diciamo le anomalie dei cachet, perché poi gli artisti televisivi costano, quindi ha anche riuscito ad affrontare periodi in cui la grande notorietà di alcuni artisti che sono venuti richiedeva cachet strabiglianti che noi siamo riusciti invece a pagare la metà, grazie proprio ai direttori artistici che hanno diretto Capariamo Remio. Il miracolo è che riusciamo a gestirlo con un intervento comunale ridicolo, perché parliamo di 40 mila euro annuali, il resto lo fanno naturalmente gli incassi. Adesso siamo in una fase in cui per poter dare un ulteriore salto d'immagine al cabaret Moremio occorrerebbero più risorse, però dobbiamo insomma cercare anche in questo caso di essere fieri di quello che abbiamo, di mettere a frutto quelle poche risorse che abbiamo e di farci supportare dagli amici come Enzo, Savino, Ilido degli Aranci, tutti quegli amici che danno e lavorano nel settore, e che magari con dei rapporti personali riescono a far venire personaggi che costerebbero molto molto di più. Ogni anno confezionare uno spettacolo è una cosa insomma difficile, il settore comunque diciamo ha dato qualche segnale di difficoltà, penso per esempio ad alcuni spettacoli annullati nel territorio di cabarettisti che alla fine non hanno riempito le sale, quindi va anche interpretato questo momento di una difficoltà economica, però ecco il fuoco acceso sul cabaret Moremio ci resta sempre ed è una delle iniziative più longevi, forse il festival più longevo di cabaret in Italia e come tale va curato da tutti. Enrico vi ha fatto piacere questa tua visita, anche perché lo scorso anno vieni io prima di Natale tra un ufficio e un lato, ti incontrai in un ufficio che non ricordo quale e stavolta ci hai fatto tu questo onore. Io ti ringrazio, ti faccio l'in bocca al lupo, auguro ai tuoi cittadini e la rivederci al 2017 che sia, non diciamo che la crisi è passata, insomma che cerchiamo di afflevoli tra questa crisi. Speriamo, grazie a voi e tanti auguri a tutti i telespettatori, speriamo in un bel 2017. Grazie Enrico.